Samuel, ma questo ciuffo, ma ti sei appena svegliato? Effettivamente, Lara, avrei bisogno di una giustatina. Una giustatina al look. Allora, io direi che oggi, visto che io, ma anche gli amici rispecchiandosi, siamo stati invitati ad un party, un bellissimo evento di bellezza, una vera e propria festa di primavera della bellezza presso Ricci e Capricci. Potresti accompagnarmi? Volentieri? Ma ci sono solo donne? No, assolutamente no, quindi puoi raggiungermi, anzi mi accompagni. Ah, ok, va bene. Andiamo. 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 Siamo arrivati! Ma non mi avevi detto che non c'erano solo donne? Ma va là, c'è già un topolone seduto e comunque è un salone unisex, ti puoi accomodare! You got it, you got it, you got it, you got it, put it in! Work, 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 work! Tables turn into a situation, now you're sitting in my bed and you impatiently waiting Bumbling over which we keep the conversation, thinking maybe we can make the combination Wanna see me lose my breath, you wanna hear me moan? Better be ready, will I never, will we get alone? Cause you and stuffin' covered up on the telephone, so you're gonna pull it in when we get it on! No turning back from this party, hurt you, do enough to conflict! And ain't no coming down from this town, my love, don't go nowhere, there's a step! Look at what you got yourself into, let's take advantage, be all that you can be! Let's take advantage, be all that you can be! Eccola la nostra Castina, buongiorno! Ciao Laura! Come stai? Benissimo, grazie. Allora guarda, io sono davvero felice perché mi hai invitato presso il tuo party di primavera a un grande evento di bellezza qui da Ricci e Capricci. Come vanno le cose? Bene, bene. Noi organizziamo sempre feste per i nostri clienti. Quindi sei sempre ricca di novità, di proposte anche? Sempre, in ogni momento c'è un'occasione per festeggiare qualcosa. E devo dire che qui da Ricci e Capricci, non so se avete notato, amici rispecchiandosi, ci sono tantissime toppolone e oggi abbiamo anche degli ospiti maschili. Devo dire che oggi abbiamo qua proprio i nostri clienti maschili, più galanti e gentili, diciamo. Quindi vorresti dirmi che hanno qualche sorpresina per noi? Hanno un riservo, una sorpresina per noi, sì. Allora io direi che la vediamo più tardi o prima di tutto sistemerei un po' i miei capelli, possiamo? Certo, adesso sistemiamo il tuo look. Bene, andiamo, procediamo. Bene, andiamo, procediamo. Amici rispecchiandosi, ma avete visto che grande tour di bellezza e di nuove tendenze primavera-estate 2014? Presso Ricci e Capricci ne impariamo sempre una più del diavolo. E io direi che in questo momento, visto che siamo all'opera con una nuova conciatura, potremo proprio parlare con Cristina e capire che cosa è in servo per la giornata. Bene, Lara, per te abbiamo preparato una conciatura con capelli ricci, con una nuova strumentazione, che ti fa un riccio un po' più selvaggio, un po' più spettinato, diciamo, meno composto. Invece la mia collega ti mostrerà un nuovo trattamento a base di cheratina che rimpolpa e ristruttura la fibra del cappello. Questo trattamento è consigliato per chi va spesso in piscina, che ha i capelli sfruttati, oppure per la stagione che sta arrivando, diciamo, al mare, col sole, che rovina i capelli. Questo fa sì che i capelli rimangano belli, sani e lucenti. In occasione della festa che abbiamo preparato oggi, Lara, poi ti presenteremo delle acconciature, sia per matrimoni, comunioni o cresime, che sono in questo periodo che abbiamo già precedentemente preparato. Oggi vi presentiamo un trattamento a base di cheratina, cherato reforming, che significa che va proprio a rimpolpare la struttura del cappello. È un'innovazione, in quanto sul discorso della ristrutturazione, perché va proprio all'interno della struttura del cappello. Va benissimo per l'estate, per la piscina, per capelli fragili, sottili. È a base di cheratina. Viene fatto in quattro tempi, però, a differenza delle altre ricostruzioni, va proprio nel tempo. Più si fa e più ristruttura il cappello. La sostanza del cappello. Eveline, dopo aver effettuato il primo passaggio, adesso effettua il secondo passaggio del trattamento con uno shampoo di detersione, sempre della linea Keratin. È un trattamento molto veloce. Non ha dei minuti di attesa lunghi, come le vecchie ricostruzioni dei capelli. Però, a differenza degli altri, dura mesi. Eveline adesso sta applicando la terza fase della ricostruzione, una schiuma a base di cheratina. Questa penetra proprio tra le cuticole e la corteccia. Come state notando, Eveline sta lavorando sempre i capelli con le mani. Questo permette ai prodotti messi di proprio penetrare. Senza questo lavoro non ci sarebbe la ricostruzione. Questo è l'ultimo passaggio della ricostruzione. Dopo Eveline andrà ad asciugare i capelli. E li sentiremo e li vedremo lucidi, corposi, voluminosi. Perché la cheratina è un elemento naturale che va proprio a rimpolpare i capelli. La nostra ricostruzione è finita. Come vi ripeto, è costituita in quattro fasi. L'uno è cheratina pura che va lavorata sui capelli. Due, è uno shampoo di detersione apposta. Non si possono effettuare shampoo diversi da quello che fa parte dei quattro prodotti. La terza è una schiuma a base di cheratina, che va proprio a fissare il primo trattamento. Reforming serve a chiudere le squame, è sempre a base di cheratina e va a lavorare sulla prima parte di sezione del capello. Infine avremo del volume, del corpo, della massa, una naturale luminosità e leggerezza. Perché comunque è un trattamento che a differenza degli altri non va ad appesantire i capelli. Siamo ritornati all'asciugatura della nostra ricostruzione. Come potete vedere, sono lucidissimi. Hanno preso volume nella parte magari dove di solito le signore hanno la tendenza che si aprono. Ma da soli, perché sono già asciutti per tre quarti. Ma da solito, perché sono già asciugatura della nostra ricostruzione. Ma da solito, perché sono già asciugatura della nostra ricostruzione. Wow, questo sì che è un riccio pazzesco! Sì Lara, effettivamente è un effetto un po' particolare. Il riccio è più duraturo rispetto agli altri ferri e ci sono più misure di diametro. Secondo delle necessità della cliente, si possono fare ricci più intensi oppure l'effetto onde. Dipende da come l'esigenza della cliente, diciamo, se lo vuole un po' più riccio o meno riccio. Ricci Capricci, come potete vedere, ha investito su nuovi strumenti di lavoro che comunque quest'anno, secondo noi, detteranno moda. Sì Lara, effettivamente è un po' più riccio. Sì Lara, effettivamente è un po' più riccio. Evelina, che dire, sono davvero entusiasta, devo dire che mi avete completamente stravolto. Bene, sono contenta. Un bellissimo look. Ok, adesso vorrei presentarti le nostre proposte estive di colore però. Ecco, stai toccando un tasso davvero interessante. Noi vorremmo capire quelli che sono i segreti e le nuove proposte per un'estate che ormai è imminente. Segreti è sempre il corso d'aggiornamento e l'avanguardia. E di essere sempre informatissime. Bravissima. Noi per quest'estate proponiamo dei chiaroscuri, effetti ombre si chiamano. L'effetto chiaro in fondo e più scuro sulla base. Questo è un effetto sul biondo. Bellissimo colore. Lei è una ragazzina e quest'anno va comunque il biondo. Vanno le tonali dal biondo che vedete che è un po' mielato, al rame, ai noccioli, ai caffè. Eccoli qua. Questo è un altro effetto ombre però su una mora. Quindi diciamo che Ricci e Capricci va proprio ad adattarsi a qualsiasi tipo di età. Esatto. Benissimo. E anche la struttura, anche al colorito della pelle, alla presenza della persona. Perché i colori rispecchiano anche quello che siamo noi. Certo. Infatti presumo sia prima di tutto una scelta soggettiva. Però poi sta anche a voi indirizzare le vostre clienti. Benissimo. Perfetto. Grazie a tutti. Ma io mi chiedo, ma alle clienti di Ricci e Capricci, ma com'è essere clienti? Beh è un grande piacere essere clienti di Ricci e Capricci. È un ambiente favoloso. Devo dire che ci sono tantissimi nuovi look e tantissime nuove proposte. Hai visto il mio nuovo look di quest'anno? Ma devo dire che sei fantastica. Grazie. Devi andare stasera. Stasera un appuntamento. Top secret. Parliamo anche con voi. Come essere clienti di Ricci e Capricci? Benissimo Lara, hai visto che look. Devo dire che oggi siamo davvero al 100% all'avanguardia, un sacco di tendenza e tanti nuovi ricci. E ciò. E con e ciò abbiamo detto tutto. E ciao. Ma parliamo anche con clienti, diciamo, di tutte le età. Dall'alto della vostra esperienza, come essere clienti di Ricci e Capricci? Beh, non è da tanto tempo che frequento questo ambiente, però sono soddisfatta. Insomma, tornerai? Ritornerò, senza dubbio. E per te invece come essere clienti di Ricci e Capricci? È bello, perché fino adesso mi sono sempre trova bene. È da molto tempo che frequenti questo salone? Parecchi anni? Sì, da dieci e oltre anche. Evelina, allora, trattamento alla cheratina concluso? Sì, perfettamente concluso. Come potete vedere i capelli sono lucidi, voluminosi. Hanno acquistato anche consistenza. Devo dire che l'effetto è davvero notevole, cioè si nota proprio a vista d'occhio. A mio parere sì. Sì, anche a mio parere. Vi invitiamo a venirlo a provare in negozio da adesso fino alla fine di settembre. Quindi mi raccomando, amici di Specchiandosi, numerosi! Sì, anche a mio parere. Eccoci, Cristina. Allora, purtroppo siamo arrivati al momento dei saluti, ma ti devo ringraziare perché è stato davvero un party eccezionale. Grazie. Grazie a te Lara, è sempre un piacere rivederti. Grazie a te Cristina. Allora ringraziamo naturalmente tutto lo staff. Amici di Specchiandosi, vi ricordo che il salone Ricci e Capricci si trova in via Martiri delle Foibe a Fontaniva, Padova. Un salutone da tutto lo staff Ricci e Capricci e Specchiandosi in tour. Ciao! 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 Autore dei sorrisi